Stiamo per entrare nel chiasso dei Baroncelli, siamo in piazza Signoria. E' un piccolo vicolo qui accanto alla loggia dei Lanzi. Siamo a parlare qui nel chiasso Baroncelli di una storia, una storia triste se si vuole, perché tratta appunto di un personaggio che si chiamava Grembiolaccio. Grembiolaccio ciabattino in pellicceria. In pratica Grembiolaccio era un povero diavolo, un povero Cristo, che aveva moglie e cinque figli. Si era trasferito a Firenze, si era sposato con una fiorentina e faceva il ciabattino. Il ciabattino perciò noi lo possiamo vedere in via pellicceria, dove lui aveva appunto la sua attività, con un piccolo bischetto, che era il tavolino appunto classico dei ciabattini, con sopra le bullette, i pezzi di cuoio, appunto il martello, quello che serviva appunto per riparare le scarpe. Sotto probabilmente al bischetto una vasca dove il cuoio era a mollo per essere ammorbidito, per poi fare le varie riparazioni delle scarpe. Si dà il caso che Grembiolaccio un giorno, probabilmente per necessità e per bisogno, commise un furto qui nel chiasso dei Baroncelli, rubò della lana. E per questa ragione qui in via dei Baroncelli venne impiccato. E vediamo come viene descritta in maniera piuttosto sintetica questa situazione così drammatica. Lunedì a D7 maggio 1646 fu impiccato Stefano, milanese, calzolaio in pellicceria detto Grembiolaccio, venuto ad abitare in Firenze nell'età poerile, dove avendo preso moglie aveva cinque figlioli. Fu non orrite le forche in piazza del Granduca di Rimpetta al chiasso di Serbi Vigliano, che sarebbe il chiasso Baroncelli, come si chiamava prima. Vissessi per aver rubato l'ana nei magazzini di detto luogo. Questo fatto drammatico ci indica chiaramente una storia, cioè il perché la forca viene eretta qui nel chiasso dei Baroncelli e non al pratello della giustizia. Perché lui viene impiccato qui, questo povero disgraziato? Bene, viene impiccato qui perché allora spesso le forche venivano erette di fronte al luogo dove era stato commesso il reato. Questo perché tutti potessero vedere e perché venissero dissuasi dal commettere non ancora una volta o altri reati. In questo caso Grandbulaccio appunto fu ucciso qui, fu impiccato qui. La famiglia ci si può immaginare che fine abbia fatto. C'è da chiedersi soltanto una cosa, ma se ancora oggi ci fosse l'uso di impiccare chiunque commette una ruberia, anche di piccola entità come questa della lana, saremmo in grado di circolare per le strade italiane? Io temo di no. Grazie.